Se effettivamente però la provincia di Lucca sarà svuotata delle proprie funzioni entro il dicembre del 2012, mi chiedo che cosa sto a fare a continuare a fare il presidente della provincia. Tra l'altro, come dire, mettendomi in una situazione di imbarazzo, anche umano, oltre che politico e amministrativo, perché dalle mie eventuali dimissioni, diciamo, dipende il destino non solo del sottoscritto, ma della giunta provinciale, di tutti i consigli provinciali, di quei precari che sono lo staff del presidente della provincia. Quindi, diciamo, una norma irrazionale e, ripeto, dal mio punto di vista, ma quello di una persona che, insomma, mi venne di parlare al passato, ha avuto il grande onore di guidare l'amministrazione provinciale di Lucca, un ente che ha fatto tante cose concrete, ha arrugato tanti servizi al cittadino e al territorio. Io credo che questo sia stato un meccanismo demagogico del capo espiatorio.